Mi sto impostando il lavoro per fare degli album per foto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Adesso procediamo alla cucitura dell'album ed è la stessa che si usa per qualsiasi libro. In pratica si apre il quaderno al centro e si procede con la cucitura. Precedentemente abbiamo fatto dei taglietti nel dorso. Quando io apro il quaderno mi ritrovo i fori che mi servono per la cucitura. Allora questo è lo spago che viene usato per fornire in questo caso l'album della cerniera. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti.